La politica e questa amministrazione deve comprendere le enormi potenzialità che sono legate al progetto calcio, al progetto Messina e non soltanto, ma in generale alla gestione corretta e proficua degli impianti sportivi, allo sport e non soltanto al calcio in generale, come volano di economia, di socialità e di sviluppo. Non dobbiamo dimenticare, per fare un esempio concreto, e questo lo dico alle tante persone che ritengono che la questione Messina non sia di fondamentale importanza, ma io ricollego il progetto e l'ambito sportivo all'ambito socio-economico. Non dobbiamo dimenticare quanto era importante in un periodo, nel periodo in cui il Messina era in serie A o nel periodo in cui le società sportive, ricordo anche le società cestistiche, calcavano i campi delle massime serie nazionali, quanta economia girava a Messina, quanto indotto in termini economici andava considerato per la città, per cui è questo il progetto e questo l'obiettivo, quindi cercare di fare tutti quanti rete insieme per un grande Messina, non soltanto calcistico, ma a tutti i livelli dello sport. In campagna elettorale l'attuale amministrazione ha annunciato l'intenzione di coinvolgere i privati proprio per la gestione degli impianti sportivi, eppure c'è il capitolo anche del PNRR, di questa pioggia di milioni di euro in arrivo dall'Europa, anche qui si tratta di un'occasione che la nostra amministrazione riuscirà da questo punto di vista di sfruttare come conciliare l'esigenza di utilizzare questi fondi con la necessità di coinvolgere i capitali privati. Io lo spero vivamente perché sono delle occasioni assolutamente da non perdere. Ci sono delle città, delle regioni intere che potranno beneficiare di questi fondi e sarebbe davvero un peccato ed uno spreco. Io credo che il pubblico non possa, quantomeno nel breve periodo, arrivare a sostenere determinate spese e anche a gestire alcune situazioni legate agli impianti sportivi. Per cui che si deleghi ai privati se il pubblico non arriva, ma che si deleghi ai privati in maniera intelligente, in maniera costruttiva, in maniera vincolata e soprattutto che si ragioni per obiettivi.